Sì, la mia interrogazione ha uno sguardo un po' più ampio perché evidenzio come a distanza di quattro anni dall'attivazione della Sores si evidenziano ancora le gravi criticità organizzative, strutturali che c'erano già all'inizio. Penso alla difficoltà nel reclutamento degli operatori con tante richieste di trasferimento in uscita, l'insufficienza ancora, rotazione del personale che in funzione alla centrale anche sul secorso territoriale e l'inadeguata integrazione funzionale e organizzativa tra questa struttura regionale e le altre zone sanitarie con numerose segnalazioni anche di eventi avversi e potrei continuare. Visto che permangono queste criticità e che abbiamo appreso mezzo stampa che l'avviso pubblico per l'incarico del direttore della Sores non è detto che proseguirà sulla strada del concorso come sottolineato dal direttore generale Tonuti, si interroga la giunta regionale per sapere quali sono le motivazioni della possibile sospensione del concorso essendo questo ormai in fase avanzata e contestualmente quali provvedimenti si intende mettere in atto e con quali tempistiche per superare l'attuale modello di gestione dell'emergenza urgenza, tra l'altro anche asporamente criticato dall'assessore ma che in questi anni non si è assolutamente modificato. Grazie, prego Assessore. Ma in questo ultimo anno e mezzo l'assessore ha avuto anche altro da fare. Non so se è noto. E rispetto a questo consentitemi una premessa perché qui va fatto anche un ripasso del diritto amministrativo e delle responsabilità che noi abbiamo. Non è la giunta regionale, il presidente della regione, l'assessore regionale che stabiliscono se si fa un concorso, non lo si fa, se lo si ferma. Questo sta nelle responsabilità della dirigenza dell'azienda. Questo è importante. E' importante soprattutto per le cose che non si dicono qui, ma quando si va fuori di qui si pubblicano sui giornali. Agli atti, a me risulta rispetto a quello, perché poi le interrogazioni parlano anche della carenza del personale. C'è stata una fase nella quale il personale aveva aperto una vertenza importante. Però il rapporto che io ho dal direttore sanitario dell'azienda di coordinamento dice che la carenza del personale è un fatto superato. Al 17 maggio ultimo scorso, il numero di infermiere in servizio perso la centrale era di 44 unità, oltre al coordinatore. Numero sufficiente a dare una copertura del servizio in grado di assicurare le risposte tempersive. Considerato che al 31 dicembre 2019 erano presenti 38 unità, il saldo entrate e uscite è di più 6. 5 in mobilità in uscita e 11 in entrata. Sappiamo bene le tensioni dentro quella struttura nella quale si sarebbe voluto intervenire, ma siamo stati condizionati ovviamente dalla pandemia. Al di là delle opinioni legittime che ognuno di noi può avere di quella struttura. Non credo di essere stato uno che negli anni in cui è stata costituita abbia fatto sconti a quella impostazione. Tuttavia, i dati esposti fotografano una situazione nella quale sono più gli infermieri che hanno chiesto di entrare in quella struttura rispetto a quelli che hanno voluto uscire. La proposta presentata, siccome le interrogazioni parlano di questo, anche no? Presentate con le 7500 firme, quasi che io ho grande rispetto per le firme, ma se noi pensiamo di continuare a governare con le firme, io non credo che faremo un grande esercizio agli atti necessari e la responsabilità con la quale bisogna assumere alcune decisioni, a volte anche non troppo popolari. Quelle firme dicono delle cose legittime che io rispetto, cioè parlano di una duplicazione della struttura. Io non credo sia sufficiente una raccolta di firme per definire un modello organizzativo. Sicuramente pongono un problema, con rispetto devono essere ovviamente esaminate tutte le ipotesi e credo che questa sia la sede del nuovo piano dell'emergenza-urgenza che definirà puntualmente tutti gli aspetti relativi, le conseguenze e collocazioni più opportune in tutte le funzioni, perché parlare della SORE se basta è abbastanza insufficiente. La SORE se è un anello di una catena che deve tenere conto, e probabilmente questo è uno dei limiti dell'attuale modello rispetto anche a come è nato e come si è sviluppato, che riguarda il tema della emergenza extrapedaliera, compreso l'elisoccorso e il soccorso territoriale, con l'obiettivo di dotarsi di una modalità di convergimento del personale, questo è l'altro grande tema che l'ha risolto, che favorisca l'interscambio operativo e che eviti la settorializzazione fra la centrale operativa dell'elisoccorso e il soccorso territoriale, l'altro grande elemento strutturale del progettivo che a mio giudizio deve essere rivisto. Questo sarà materia del piano di emergenza-urgenza che tutti quanti avremmo voluto affrontare e risolvere prima, ma le vicende che ci hanno interessato in particolare nel corso di questo ultimo anno e mezzo non lo hanno consentito. Io ai sindacati ho detto che per quel che mi riguarda rispetto a quelle cose 4, 5 importanti, strutturali, che entro la fine legislatura, secondo me, questa amministrazione deve garantire, è al primo punto metto la revisione del sistema di emergenza-urgenza attraverso la revisione di questo piano. Quindi relativamente invece alla copertura del direttore della struttura, e qui rinnovo il ripasso delle responsabilità, della separazione delle responsabilità relativamente agli aspetti che tutti ben conosciamo e che abbiamo ascoltato. L'azienda di coordinamento ha avviato una procedura concorsale che è in corso, non è sospesa. E va altresì chiarito che nell'autonomia delle responsabilità aziendali l'azienda sta anche conducendo delle valutazioni per verificare la copertura dell'incarico anche con modalità di comando di un professionista che presenti i requisiti imposti dalle norme vigenti. Questo sta nell'autonomia dei direttori generali dell'azienda, non dell'aggiunta regionale. Nel caso tale soluzione andasse in porto, con provvedimenti adottati entro la fine di maggio, il bando potrebbe essere ritirato a sospeso, come è possibile fare in base alle norme. Ho letto qualche autorevole esponente del Partito Democratico che non sta in quest'aula e che spesso si avventura in giudizio, che tra l'altro dovrebbe anche avere una solida capacità di giurisprudenza, fare un po' di confusione rispetto a come si governano i concorsi. Però questo è il momento che ci è dato di vivere con le sue difficoltà. Quindi le valutazioni vanno nelle autonomie delle responsabilità aziendali e quindi nel caso questo lo ritenesse il direttore generale di quell'azienda, il direttore sanitario di quell'azienda, stabiliranno in che modi procedere. L'attuale direttore uscirà dal servizio in data 1 agosto e le procedure in corso, comunque, qualsiasi esse siano, lo ripeto, nelle autonomie delle aziende, assicureranno continuità nell'attribuzione della responsabilità della struttura. In conclusione, rispetto a concetti che ho ascoltato, i quadri riguarderebbero influenze, trasparenze, fino a blocchi o persecuzioni di concorsi, credo di aver detto già tutto quello che penso. Ci sono delle norme che vanno rispettate, questo è il compito delle aziende, non del Consiglio o dell'Aggiunta regionale. Assessore, è vero che nell'ultimo anno lei e tutto il servizio in data regionale sono state impegnate soprattutto sul tema della pandemia, quindi questo ha bloccato tutta una serie di atti, tra cui anche l'emanazione del piano dell'emergenza urgenza. È anche vero che prima della pandemia ci sono stati altri due anni in cui non si è modificato nulla, anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, è venuto dalla Lombardia un direttore generale, Zavattaro, che avrebbe dovuto modificare completamente il modello, ma come è venuto così se n'è andato, come altri direttori da lei e dal Presidente nominati, senza modificare e senza risolvere le criticità annose che si trascinano da anni. E questo ci preoccupa, perché mancano due anni a fine legislatura e molti problemi sono ancora lì. Questo è il primo punto. Quindi aspettiamo di vedere questo nuovo modello che renda più efficace l'intervento dell'emergenza territoriale. Ne abbiamo sentito parlare, ma al momento non vi è traccia, l'intervento dell'emergenza territoriale. Il secondo tema, che è quello del direttore della Sor, e sono d'accordo con lei, la politica deve starne fuori, perché è responsabilità dell'azienda. Però, visto che c'è un procedimento, un avviso pubblico, già in fase avanzata, con la Commissione, sembra un po' strano bloccare questo avviso pubblico per pensare a un comando. E quindi il sospetto che magari qualche candidato non si è gradito, cioè viene. Io capisco che è responsabilità dell'azienda sanitaria, però, come dice lei, la politica deve starne fuori. Bisogna capire perché. Intanto siamo in ritardo perché, come diceva lei, col primo di agosto l'attuale direttore della Sor va in pensione e sarebbe stato utile avere un passaggio di consegne e quindi fare il concorso prima, come sollecitato, tra l'altro, dall'attuale direttore della Sor. Dall'altra parte, questo nuovo alto profilo che dovrebbe essere nominato a governare la Sor non si capisce perché, in qualche maniera, non può essere trovato tra le quattro persone che hanno, con esperienza, che hanno presentato il proprio curriculum. Per cui il dubbio resta. Naturalmente lei mi dirà che sicuramente verrà nominato una persona di altro profilo. Io spero che questo profilo non sia un profilo, un basso profilo, un profilo yes man che ascolti solo la politica. Grazie.